Ciao, oggi sono qui al Roadshow con Tobel, siamo qui all'Hard Rock Café, una location diversa dalle solite, bellissima l'idea di farla qui nell'Hard Rock Café di Roma, io come al solito sono sempre qui per essere informato sulla finanza, sui mercati e per dare il meglio della consulenza finanziaria ai miei clienti e anche a te che non sei mio cliente, se vuoi contattami, Alfonso Silva, consulente finanziario di Roma, mi trovi su alfonoselva.it o il mio sito, oppure chiamami o scrivimi a infochiocciola alfonoselva.it e oggi vedremo cosa ci propone con Tobel. Ciao!